con calma questo mi dura più o meno qualche 20 secondi bravo se possibile ok 20 secondo così per me così questo già al massimo poi quando ha finito tuo piacere devi sgonfiare questo qua tu devi toccare questo bottoncino qua per fare sgonfiare come ha detto posso aiutare con una mano per spegnere un pochettino per abbassare pressione